senza sosta alla ricerca dei dispersi trovate le scarpe del piccolo mattia fabbriche di cantiano disperate aiutateci o il paese muore elezioni le proposte del movimento 5 stelle nelle marche nuove prospettive per l'oncologia la sfida di marca nord hollywood guarda pesaro per nuovi set cinematografici buona serata benvenuti al nostro telegiornale oggi è martedì 20 settembre apriamo questa edizione con le ultime notizie relative all'alluvione nella nostra regione Marche nel nostro primo servizio facciamo un po' il punto della situazione sulla ricerca dei dispersi sulle indagini in merito agli accertamenti delle responsabilità e anche sui primi stanziamenti a supporto delle popolazioni alluvionate vediamo dopo lo zainetto recuperato domenica oggi sono state trovate anche le scarpe da ginnastica appartenenti a mattia luconi il piccolo di otto anni di san lorenzo in campo disperso da venerdì nell'alluvione che ha colpito l'entroterra anconetano scarpe ritrovate nella zona attorno al nevola ed è lì che continuano a insistere le ricerche fra il fiume e i terreni agricoli del territorio di castellione di suasa al lavoro sommozzatori dei vigili del fuoco e carabinieri uomini della guardia di finanza uomini del soccorso alpino e speleologico ore di devastante apprensione che accomunano anche l'altra dispersa la 56 n brunella q per la quale invece le ricerche continuano sulle zone di barbara e ostravetere ricerche che corrono di pari passo alla necessità di voler fare chiarezza su eventuali responsabilità sia la procura di ancona che quella di urbino hanno aperto due fascicoli d'indagine per entrambe le province di competenza per fare chiarezza su ipotesi di omicidio colposo relative a presunte negligenze o sottovalutazioni del fenomeno responsabilità aiuti e investimenti temi che ieri sera la giunta acquaroli e il coordinamento di protezione civile hanno approfondito in una conferenza stampa che ha stabilito uno stanziamento di 2 milioni di euro per i risarcimenti di concerto con la camera di commercio regionale nell'occasione acquaroli ha voluto precisare la necessità di un piano nazionale straordinario per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico precisando quanto fatto finora dalle attuali competenze regionali dal 2018 al 2022 sono state realizzate opere di manutenzione con fondi regionali per circa 2 milioni e 600 mila euro se non erro sul fiume Misa e Nemola sono opere che per i tratti di competenza e per le competenze della regione sono state fatte con fondi regionali sia dalla giunta che mi ha preceduto sia dalla nostra giunta per precisione devo dire che di fondi regionali la giunta che presiedo ha investito in due anni quindi in due esercizi di bilancio circa 6 milioni di euro negli anni precedenti dopo che erano stati nei 5 anni precedenti dopo che erano passate le competenze dalla provincia alla regione altrettanti 6 milioni di euro quindi parliamo di 12 milioni di euro complessivi bisogna investire di più bisogna cambiare le leggi bisogna avere un approccio diverso rispetto a fenomeni come quelli che abbiamo visto l'altro giorno sicuramente sicuramente gli investimenti che abbiamo messo in campo che stiamo mettendo in campo si parla di 170 milioni di euro sul reticolo dei fiumi marchigiani che sicuramente in larga parte verranno utilizzati per migliorare e efficientare anche i problemi che si riscontrano sul Misa sono opere fondamentali ma non basteranno perché purtroppo un'opera che si fa su un fiume è un'opera che ha una durata limitata non è un'opera che ha una durata illimitata è un processo complicato che sicuramente va gestito insieme al governo centrale e con un potenziamento delle risorse e con una programmazione seria intorno a questi effetti climatici e continuiamo a parlare di questo argomento nel telegiornale di ieri vi abbiamo mostrato la drammatica situazione del centro storico di Cantiano messo completamente in ginocchio dall'alluvione oggi invece vi mostriamo la situazione altrettanto disperata dell'area industriale alle pendici del Catria è una Cantiano in ginocchio, in ginocchio non soltanto il borgo storico, il centro che vi abbiamo mostrato nelle immagini di ieri immagini di vie sommerse dal fango, di case inagibili, di attività di fatto distrutte è una Cantiano che soffre anche per quello che riguarda l'area industriale limitrofa al centro del paese dovunque ci si gira nell'area industriale che il primo biglietto da visita all'uscita dalla superstrada per Cantiano si vedono fiumi di fango, capannoni sventrati o come vediamo qui una strada di fatto crollata proprio all'ingresso del capannone industriale che si trova alle nostre spalle i danni più importanti sono come vedete la strada che qui è venuta giù e taglia fuori la mia officina io sono un artigiano metalmeccanico e sono dei ragazzi che fanno il vino di viscele qua giù il capannone qui davanti vedete voi non ci lavoravano ma è devastato però diciamo tutto il tessuto produttivo di Cantiano è messo proprio in condizioni critiche la politica nei prossimi giorni dovrà decidere se questo paese lo vuole far morire definitivamente sono scelte importanti da fare sicuramente la coriacità di questa gente è già nota e quindi gente che non si dà per vinta è gente abituata a cavarsela purtroppo essendo una zona depressa è abituata a cavarsela da sola benvenga ci sono visti molti aiuti e questo è importante ci sono diverse persone che aiutano però ecco non ci diamo sicuramente per vinti non bastano però non bastano perché qui ci vuole veramente l'intervento anche dell'esercito perché di qualcosa cioè bisogna bisogna che ci si metta in bocca e le mani che si deno aiuti veramente concreti e qua siamo all'esterno della ditta SAM costruzioni meccaniche sempre nell'area industriale limitrofa a Cantiano dove lo scenario all'interno del capannone di questa azienda parla da solo uno scenario come vedete è successo il finimondo l'altra notte ecco con l'aiuto dei miei dipendenti dei soci e anche degli amici stiamo cercando di riportare tra virgolette alla normalità il prima possibile per poter riaprire perché se no Cantiano ecco è morto e ci vogliono subito da subito da adesso immediatamente delle sovvenzioni qualcosa perché se no noi chiudiamo siamo in ginocchio siamo veramente in ginocchio e devono subito darci qualcosa darci un aiuto perché qua i danni sono incalcolabili da come vedete non può bastare la buona volontà degli amici che comunque fanno tanto ma siamo davanti a una catastrofe naturale grazie a tutti quanti che sono venuti ad aiutarci a darci una mano anche ieri c'era tantissima gente da fuori però ci vogliono aiuti concreti ci vogliono soldoni ci vogliono i soldi non parole soldi per poter riaprire non per guadagnare per poter riaprire le attività se no Cantiano è morto Cantiano ripeto è morto dalla tragedia ai sostegni per gli alluvionati un tema che abbiamo analizzato con Amerigo Varotti direttore di Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord dell'associazione appunto che si è fatta promotrice di una partecipata raccolta fondi la situazione è molto pesante e molto grave soprattutto a Cantiano tutte le attività economiche del commercio la ristorazione, i bar, le aziende industriali, gli artigiani sono tutti fermi, rischiano veramente se non c'è un intervento economico urgente da parte delle istituzioni rischiano di non riaprire noi come Confcommercio abbiamo intanto lanciato una raccolta di fondi a livello nazionale che mi pare anche nei weekend stia andando molto bene con un riscontro di cui daremo ovviamente notizie alla stampa con un riscontro importante questi fondi andranno direttamente d'accordo con le amministrazioni locali alle imprese vogliamo che gli arrivino subito dei soldi per poter riaprire perché se non riaprono è la morte per Cantiano, è la morte per Serra, per Frontone insomma per tutte le altre realtà e poi ci siamo messi in moto abbiamo creato una rete di volontari anche ieri erano a Cantiano a spalare fango con la nostra vice direttrice in primo piano quindi abbiamo concretamente detto Confcommercio c'è è vicino al mondo delle imprese credo che bene abbia fatto il Presidente Acquaroli intanto a stanziare un primo fondo mi pare di un milione di euro come primo intervento così come il riconoscimento dello Stato d'emergenza che dà la possibilità appunto a livello nazionale e alla protezione civile di stanziare tante risorse la protezione civile ha dimostrato di essere molto attenta e molto attiva nella nostra regione c'è purtroppo un ritardo nella realizzazione di opere indispensabili vediamo gli interventi sul Misa che hanno comportato a Senigallia due alluvioni devastanti nel giro di pochi anni e di questo però si ne occuperà chi di dovere insomma Ed ora una comunicazione di servizio divulghiamo la segnalazione che ci arriva dall'Unione Provinciale Cecchi e Ipovedenti della provincia di Pesarubino che invita tutta la popolazione affetta da disabilità visiva residente a Cantiano, Frontone, Pergola, Cagli e Serra Sant'Abbondio a contattare la sede pesarese per ogni genere di supporto o sostegno in questo momento di servizi ridotti per i loro territori quindi contattate pure i numeri 0721 41 61 71 oppure 333 83 49 473 Mancano davvero pochi giorni alla giornata di domenica domenica in cui tutti i cittadini andranno al voto e allora oggi andiamo a conoscere le proposte del Movimento 5 Stelle attraverso la voce dell'avvocato Samuela Melini che è candidata al Senato per le Marche intervistata dal nostro Antonio Astuti Le idee sono molto chiare perché dopo il 25 settembre la volontà dei 5 Stelle come da programma è di partire da dove eravamo rimasti con il conte 1 e il conte 2 sappiamo che l'80% del nostro programma è stato realizzato e quindi dobbiamo ripartire da qui da strutture portentose come il super bonus per poi passare per il retto di cittadinanza con le giuste modifiche che dovremo fare e per arrivare poi alla spazza corrotti per garantire la legalità però per quanto riguarda l'incontro oggi in Conf Commercio la cosa che ci preme è parlare del rapporto tra il fisco e le imprese vediamo che nel programma che viene presentato vi sono molti punti in comuni con il programma dei 5 Stelle a partire dall'eliminazione dell'IRAP questa tassa che crea poi un doppio binario all'interno della contabilità delle imprese per arrivare poi alla riduzione del cuneo fiscale sia sulle imprese sia sulle famiglie e sui lavoratori passando poi per fondi di garanzia dall'80 al 50% a sostegno delle imprese a cura dello Stato per garantire prestiti, mutui e liquidità alle imprese il potenziamento dell'accessione del credito che deve essere poi applicato non solo al super bonus ma anche a tutto il comparto ad esempio agrario e altra cosa fondamentale che ci accomuna e poi la previsione per quanto riguarda gli autonomi le partite IVA e i piccoli redditi di una flat tax che non si tratta della flat tax raffazzonata dal centro-destra ma si tratta appunto di una flat tax soltanto per i minimi abbiamo visto soltanto per i redditi inferiori con un fatturato inferiore ai 65.000 euro che noi come Confcommercio chiediamo di ampliare e di applicare anche ai redditi che vanno dai 65.000 euro ai 100.000 euro ovviamente l'aliquota sarà poi bilanciata Tanti gli scenari che si apriranno lunedì prossimo in questo momento staremo commentando ben altro cosa pensano i 5 Stelle di quello che potrà essere il futuro davvero della loro coalizione della loro lista una volta avvenute le elezioni Allora siamo molto fiduciosi per queste elezioni nonostante i sondaggi che ora non ci sono più ci dessero come terzo terzo polo chiamiamolo così e vi è una ripresa e una risalita e cosa faremo dopo è tutto da vedere perché non sappiamo come le coalizioni che arriveranno in Parlamento i partiti che arriveranno in Parlamento se manterranno oppure no il loro rapporto di coalizione ad ogni modo i 5 Stelle per ora garantiscono di rimanere autonomi di rimanere indipendenti e che non faranno le cosiddette ammucchiate che tanto spaventano e hanno caratterizzato il governo Draghi l'approfondimento organizzato da Confcommercio Marche Nord lo troverete domani mercoledì 21 settembre alle ore 21 e 40 su Rossini TV mentre sempre domani ma alle 21 e 20 su Rossini TV invece vedrete un convegno organizzato da Marche Nord che si intitola ricerca cura e umanizzazione in oncologia che si è tenuto appunto questo weekend di due giornate a Pesaro e a Fano le prospettive dell'oncologia del nostro territorio che vi anticipiamo in questo prossimo servizio ricerca cura e umanizzazione in oncologia è stato questo il titolo del convegno organizzato dall'azienda ospedaliera Marche Nord che ha riscosso grande partecipazione nelle due giornate allestite nelle weekend presso la sala dell'amministrazione provinciale di Pesaro e presso l'aula di Palazzo San Michele a Fano sede distaccata dell'Università degli Studi di Urbino un format ideato per abbracciare entrambe le città dove l'oncologia di Marche Nord opera attraverso i reparti diretti dalla dottoressa Rita Chiari ideatrice e responsabile scientifico del convegno io ho aperto io ho aperto questo convegno con la mia presentazione le parole che curano perché questo è un aspetto che tendiamo a tralasciare ma ogni battito di ciglia non solo ogni parola nei nostri ambulatori quando parliamo con i nostri pazienti oncologici ha veramente un valore enorme il messaggio che vogliamo dare con questo convegno è un messaggio di verità come è il messaggio che vogliamo dare poi negli ambulatori ai nostri pazienti ogni giorno il messaggio di verità è che queste tre parole che vedete alle mie spalle ricerca cura e umanizzazione sono tutte e tre allo stesso livello importanti nella gestione del paziente perché ricerca ricerca significa ricerca preclinica e significa ricerca traslazionale cioè quella che sta in mezzo tra il bancone e il letto del paziente questa ricerca serve a migliorare la cura a migliorare la qualità dell'assistenza e l'umanizzazione è la parte che non è la ciliegina sulla torta è una parte integrante che deve andare insieme alla offerta della migliore cura nel senso della migliore più all'avanguardia in linea con le linee guida nazionali ed internazionali umanizzare le cure significa portare attorno al paziente oncologico quell'attenzione quella come posso dire prendersi cura del paziente con lo psico-oncologo con il nutrizionista con progetti come quello di medicina letteraria che abbiamo presentato in questo congresso che è un modo di esprimersi abbiamo voluto dare voce a tutti i pazienti oncologici con questo libro che si chiamerà 6 tre parole ricerca cura e umanizzazione che ne hanno aggiunto una quarta fondamentale prevenzione esistono due ambiti di prevenzione la prevenzione primaria e la prevenzione secondaria prevenzione primaria significa corretto stile di vita è vero che nelle neoplasie possono essere prevenute con un corretto stile di vita quali sono i principali agenti che dobbiamo correggere nel nostro stile di vita il fumo il fumo di sigaretta è responsabile di uno su tre neoplasie solide non solo tumori del polmone ma anche altri 17 tipi di neoplasie l'uso di una dieta inadeguata povera in fibre e ricca in grassi e cibi troppo elaborati quindi dobbiamo ritornare alla dieta mediterranea vera quella dei nostri nonni che mangiavano la carne una volta alla settimana più o meno poi l'altro aspetto importante oltre al fumo e all'alimentazione è l'esercizio fisico dobbiamo come oncologi prescrivere l'esercizio fisico ai nostri pazienti perché è un fattore che previene l'infiammazione e quindi tende a migliorare la qualità di vita del paziente poi l'altro aspetto è la prevenzione secondaria significa diagnosi precoce significa sottoporsi in maniera corretta agli screening su questo punto voglio sottolineare due aspetti esistono degli screening già attivi in Italia lo screening del conorretto lo screening della mammella a cui bisogna aderire sta partendo è partito in questi mesi grazie allo sforzo organizzativo dell'istituto nazionale dei tumori e alla lungimiranza del ministero della sanità un programma di screening anche per il tumore del polmone che in questo momento sta coinvolgendo 18 centri italiani e che ci permetterà di arrivare prima anche alla diagnosi di tumore del polmone io nella mia relazione di oggi ho parlato di tumore del polmone e ho detto che il 75% dei casi vengono diagnosticati in fase avanzata ecco quando avremo uno screening per il tumore del polmone probabilmente la percentuale si ribalterà aumenterà il numero di pazienti che diagnostichiamo in fase precoce che quindi hanno maggiore probabilità di guarire dopo la stradomenica dedicata alla memoria di Odoardo Giansanti in arte Pasqualone l'infaticabile attore dialettale Carlo Pagnini è pronto ad una nuova performance che andrà in scena sabato 24 settembre alle 21.15 al Teatro Sperimentale di Pesaro parliamo di Soundfield e Luce spettacolo in cui le poesie di Pagnini si intersecheranno alle musiche del direttore del conservatorio Fabio Masini uno spettacolo promosso da Lions Club Pesaro Host Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro in collaborazione con DT Consulting ingresso al prezzo unico di 5 euro il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza e sempre sabato 24 settembre giorno di Sant'Erenzio fra le 11 e le 16.30 si terrà la tradizionale regata del patrono organizzata dalla Lega Navale di Pesaro e giunta la 32esima edizione una data che segna la fine dell'estate ma anche la voglia di ritrovarsi di nuovo insieme sottolinea il presidente del Sodalizio confermato il percorso dal porto di Pesaro fino a Fosso Seiore con due giri da effettuare per le barche più grandi sono ammesse tutte le imbarcazioni a vela e derive le iscrizioni si chiuderanno venerdì 23 settembre alle ore 12.30 Villa Imperiale e la Sinagoga di Via delle Scuole sono state pensate selezionate come due potenziali location pesaresi per futuri set cinematografici hollywoodiani è quanto emerso dalla recente presentazione del libro My Marche realizzato da Giuseppe Nardi e presentato all'ultima mostra del cinema di Venezia all'interno del piano regionale di rilancio del settore audiovisivo che prevede lo stanziamento di fondi e una strategia finalizzata a portare nelle marche importanti produzioni internazionali la promozione a Venezia ha creato una serie di incontri che come confermato dal vice sindaco Daniele Vimini porteranno ad una mirata promozione di Pesaro capitale della cultura attraverso grandi produzioni cinematografiche e concludiamo con lo sport in particolare con il campionato italiano di velocità di moto 3 andiamo a vedere i risultati del weekend di gare al Mugello del team di Gradara MR Racing sul circuito toscano del Mugello è andato in scena il quinto round del campionato italiano velocità il team MR Racing di cui Rossini TV e Media Partner si è dovuto presentare a questo appuntamento con un solo pilota Matteo Morri in quanto Gianpaolo Di Vittori si è infortunato ad una spalla durante una sessione privata d'allenamento proprio pochi giorni prima delle gare in programma fin dal giovedì i dati raccolti nei turni di libere e le sensazioni di Morri che ricordiamolo rientrava dopo un infortunio subito in gara 2 a Misano di fine luglio erano buone per il proseguo del weekend di gara durante le qualifiche del venerdì il tempo sul giro fatto realizzare da Morri pur essendo di pochi decimi superiore a quello dei migliori della categoria lo ha posizionato in dodicesima casella sulla griglia di partenza il sabato mattina a causa della pioggia incessante con raffiche di vento molto forte ha portato gli organizzatori del campionato ad annullare i turni di prove previsti si è dunque partiti nella gara di pomeriggio col sole ma con l'asfalto ancora magnato senza aver potuto provare il setting delle moto per quel tipo di condizione una scivolata poco dopo la partenza di un pilota che stava viaggiando in seconda posizione ha creato difficoltà a chi stava sopraggiungendo in quanto la moto e il pilota sono rimasti in mezzo alla pista frangente in cui Morri ha dovuto rallentare molto per evitare il peggio e ha perso posizioni ma come affermato dallo stesso Matteo a fine gara sapeva di poter far bene è iniziato una bellissima rimonta che lo ha portato a risalire a suon di sorpassi e giri veloci dalla quindicesima posizione del primo giro a un importante sesto posto finale fortunatamente il sole ha regalato la sua presenza per tutta la giornata di domenica dove si è ripetuto in parte il copione della gara di sabato per il bravo pilota di Gradara una partenza non ottimale non lo ha aiutato nella fase iniziale della gara ma dopo pochi giri i suoi tempi erano del tutto in linea con quelli dei migliori la rimonta lo ha portato così a tagliare il traguardo in nona posizione centrando l'obiettivo di due risultati in top 10 tra il sabato e la domenica soddisfazione per pilota e team che vede aumentare il proprio potenziale in vista dell'ultimo appuntamento di campionato a Imola previsto per sabato 8 e domenica 9 ottobre e questa era davvero l'ultima notizia carissimi amici adesso vi consigliamo comunque di rimanere collegati su Rossini TV canale 80 perché alle 21.20 c'è la seconda puntata una puntata inedita di questa seconda stagione di Green Tour dopo avere visto San Lorenzo in campo la settimana scorsa questa settimana avrete la possibilità a partire da stasera alle 21.20 di vedere la puntata dedicata a Colli al Metauro e qui sono indicate tutte le repliche in cui potete vedere questa puntata domani torna la nostra rassegna stampa il buongiorno che vi dà Rossini TV alle 7.20 in diretta sul canale 80 e sulla nostra pagina Facebook e poi vi ricordiamo che sabato 24 settembre giorno di San Terenzio alle ore 18 se vi collegate su Rossini TV vedrete la solennità di San Terenzio la Santa Messa in diretta dal Duomo di Pesaro grazie per essere stati con noi vi ricordiamo in chiusura il numero per le segnalazioni segnalate le cose che non funzionano che non vanno nel vostro comune nella vostra città al numero 370 366 72 10 potete mandarci messaggi di Whatsapp oppure sapete ormai che potete chiamarci quando volete al nostro numero fisso della redazione 0721 26337 grazie e buona serata grazie 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 grazie